Oroscopo del giorno venerdì 19 gennaio 2024 Ariete Amore, bene questo venerdì del mese con una bella posizione di venere in congiunzione pronta a favorire le situazioni amorose. Tutto ok sia per le coppie che per chi è ancora single. Lavoro, le stelle saranno sfavorevoli, in particolare Mercurio e Marte. Cercate di porre maggiore attenzione al lato professionale. Toro Amore, un venerdì di gennaio che sarà equilibrato e stabile, per voi e per quelli che sono i vostri rapporti personali. Lavoro, Giove e Mercurio saranno entrambi in congiunzione e questo potrebbe essere un giorno veramente soddisfacente, con buone nuove ed occasioni professionali possibili. Gemelli Amore, una giornata molto poco favorevole in amore perché purtroppo potrebbero esserci alcuni intoppi amorosi. Questo sarà un venerdì senza grandi emozioni nei rapporti, non positive almeno. Lavoro, ancora una volta vi ritroverete a dover fronteggiare Mercurio in opposizione, attenzione! Cancro Amore, un giorno un po' è problematico per le coppie ma anche per le conoscenze nuove di chi è single. Sarà una giornata con delle complicazioni all'interno dei vari rapporti personali. Cercate di stare più attenti con i sentimenti. Lavoro, potrebbero esserci delle sfide professionali da dover affrontare al meglio sul posto di lavoro. Leone Amore, la posizione di venere sarà favorevole e questo vi garantirà senz'altro delle belle emozioni in amore. Sia in coppia e sia nelle nuove conoscenze dei single, sarà un giorno molto positivo. Lavoro, sfavorevole questo giove. Occhi aperti perché potrebbero esserci alcuni problemini di lavoro. Vergine Amore, una nuova giornata di gennaio che non vi porterà delle grandi emozioni in amore, con la persona che avete al vostro fianco. Un venerdì in cui venere non sarà in buon aspetto. Lavoro, Mercurio vi aiuterà tanto sul posto di lavoro. Approfittatene per ricevere delle ottime gratificazioni. Bilancia Amore, venere sarà favorevole in questa giornata e vi porterà delle emozioni positive oltre che piacevoli. Sia per chi è impegnato in una relazione amorosa che per chi non lo è ancora, sarà un buon venerdì. Lavoro, nuovo giorno con Mercurio sfavorevole. Sul posto di lavoro ci saranno dei possibili problemi da dover affrontare. Scorpione Amore, una venere non attiva ma non è detto che questo vi porterà delle crisi sentimentali a tutti i costi, anzi. Lavoro, giove sarà in opposizione. Per questo motivo se ci saranno delle scelte professionali da dover fare, dovranno essere ben pensate. Sagittario Amore, la congiunzione del pianeta dell'amore vi porterà emozioni e rapporti più che positivi. Questo sarà un venerdì di sentimenti alti e di situazioni piacevoli per tutti. Lavoro, le energie odierne vi doneranno una vera e propria marcia in più in ambito lavorativo. Capricorno Amore, dovrete attendere ancora qualche giorno prima di potervi scatenare con la passione con il grande ritorno di venere dalla vostra parte. Lavoro, Mercurio e Marte saranno davvero in ottimo aspetto per voi e contribuiranno a favorire i vostri elaborati professionali. Acquario Amore Amore, giornata veramente positiva in amore con il proprio partner o anche con una conoscenza nuova nel caso dei single. Per oggi infatti sarà possibile provare emozioni molto belle. Lavoro, la posizione sfavorevole di giove continuerà a portare delle situazioni piuttosto incresciose sul posto di lavoro. Tesci Amore Amore, il buon aspetto di venere, come saprete, tornerà dalla prossima settimana ma non per questo potrete lamentarvi dei vostri rapporti. Lavoro L'energia di oggi potrebbe essere quella giusta per darsi da fare sul posto di lavoro. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Amore Grazie a tutti.